Due casi di scabbia anche tra gli agenti penitenziari di stanza nel carcere di massima sicurezza di Sulmona, più sei casi già diagnosticati sui detenuti. Gli acari dietro le sbarre sono stati sottovalutati secondo le organizzazioni sindacali che fanno esplodere la protesta e chiedono la sorveglianza sanitaria. Non una situazione di allerta né di allarme perché il trattamento è pressoché collaudato, ma le misure vanno prese. Se confermate, anche i dubbi sono stati ormai azzerati dalla diagnosi rilasciata. Ci si ritroverebbe di fronte a un caso grave di dubbi a gestione amministrativa. Per quello che starebbe accadendo in questi giorni presso la casa di reclusione potremo tranquillamente affermare che tanto tono che piove, dichiarano Tiziana Sciarra, Gaetano Consolati, Giuseppe Mazzagatta e Davide Taboliti, riprendendo quanto scritto nella nota inviata alla direzione carceraria per conoscenza anche a provveditori regionali e alle segreterie regionali. In considerazione di quanto accaduto, nel contestare i metodi sinora adottati dagli attori scesi in campo per dare una risposta risolutiva alla questione, fermo restando la necessità di effettuare adeguata profilassi generale, chiediamo che tutti coloro i quali faranno richiesta della visita medica vengano messi nelle condizioni di effettuare la spesa dell'amministrazione, aggiungono i sindacati nella nota.